Massimo Prizzi, sabato importantissimo per la Bodyline perché si va a Tolfa, non per le tante sarre che ci sono in queste settimane, per una serata importante per voi. Sì, The Best of the Best è il nome della manifestazione, è il clou di un'organizzazione che dura da circa un anno in IKTA dove si affronteranno i più forti atleti che si sono evidenziati sia a livello italiano ma anche internazionale. Sarà un galà internazionale di sport da combattimento su tutte le discipline. Presentiamo un po' questa serata con gli atleti che sono qui vicino a noi e sono pronti per questo appuntamento? Sì, comunque l'evento inizierà all'ora 21 all'Anfiteatro a Tolfa e ci saranno moltissimi match della palestra Bodyline. Vorrei ricordarne qualcuno a partire da Antonio Simeoni che combatterà nella kickboxing light alla categoria a meno 75 kg. Lorenzo Mezzana che combatterà nella categoria 85 kg nella kickboxing light. Poi avremo due match da professionista, il primo sarà l'assalto al titolo tagliano professionista nella kickboxing light alla categoria a meno 73 kg. La categoria che poi era detenuta da Alessio Crescentini, Manuel Scorpioni. Due parole su questo combattimento? Due parole, cercherò di fare quello che so fare, di mettere in pratica quello che mi ha insegnato il mio maestro e di vincere questo match. E poi abbiamo praticamente il clou della Bodyline, Alessio Crescentini ancora imbattuto e ha al suo attivo moltissimi match sia nel kickboxing light sia nel full contact dove farà uno dei match più importanti della serata, combatterà per il titolo del Mediterraneo nel full contact contro un avversario straniero che viene dalla Romania, campione in carica rumeno, sulla distanza di 5 round da 2 minuti. Quindi veramente una semifinale europea, diciamo così, tra virgolette, quindi senti un po' la pressione? Abbastanza, sì, ultimamente quando poi si arriva un po' alla prossimità del match si inizia a far sentire un po' la tensione, un po' l'ansia ma è anche giusto che ci sia perché ti dà un po' la carica per affrontare poi il match. Che cosa stai facendo in questi giorni? Attualmente, dato che manca una settimana, è un po' un lavoro un po' più leggero, lavoriamo oggi un po' più sull'intensità ma poi sicuramente andremo un po' a calare perché poi dobbiamo arrivare freschi al match. Invito nuovamente tutte le persone a fare da cornicio a questo evento che credo che sia uno degli eventi più belli organizzati nel litorale. Grazie a tutti.